Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Grazie di cuore. Lo scorso anno, durante una partecipazione al programma Oggi è un altro giorno, Roberta Bruzzone aveva ricevuto un toccante videomessaggio dai suoi genitori. Il padre le aveva dichiarato «Ti voglio bene e ti seguo sempre», mentre la madre aveva espresso il suo orgoglio per la figlia, elogiandola per le sue qualità fin dall'infanzia. Roberta, visibilmente commossa, aveva raccontato «Proprio non me lo aspettavo di vedere i miei genitori. Tra l'altro mio padre ha passato anche un brutto periodo. Ha subito l'asportazione di una parte della gamba a causa di una condizione di salute non buona. È stato un periodo abbastanza complesso». Roberta Bruzzone, nota criminologa e psicologa, vive un profondo dolore per la perdita del suo amato padre, Domenico. A rendere nota la triste notizia è stato un commovente post su social media «Ciao papà, grazie di tutto», accompagnato da una foto che li ritrae insieme durante una cena. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio e solidarietà rivolti a Roberta in questo difficile momento. La criminologa aveva poi condiviso il legame unico con suo padre, ex membro della polizia provinciale e esperto nel contrasto al bracconaggio. Nonostante le loro differenze, Roberta aveva ammesso che il padre era il suo alter ego, insegnandole a affrontare le situazioni più difficili. La complessa relazione padre-figlia, fatta di scontri e confronti, ha contribuito a plasmare la personalità di Roberta, che aveva dichiarato, lui non è una persona molto espansiva. Ma glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene e quindi siamo uno a uno. Partecipa anche tu commentando il video e iscriviti al canale se vuoi restare aggiornato. A presto!